Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. Tutto l'Abruzzo diventa territorio sismico e i comuni dovranno attenersi alla nuova legge regionale per la riduzione del rischio che fissa per loro conto il grado di pericolosità sismica di ciascun territorio, un potere dunque sottratto alle amministrazioni locali. I comuni inoltre dovranno adottare nuovi strumenti urbanistici e provvedimenti amministrativi in relazione alla pericolosità del territorio in cui sono ricompresi. Maggiori controlli, miglioramento nelle azioni per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico e differenziazione tra alta e bassa del sismicità. Sono solo alcuni degli aspetti più importanti che affronta il nuovo disegno di legge regionale, norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, approvato dall'Aggiunta regionale. La pagina del lavoro, siamo preoccupati perché la situazione è difficile, lo ha detto Susanna Camusso, segretario CGL alla convention di Confindustria. Ti proveremo, ha detto la Camusso, a dare una scossa al governo. Sentiamo. Due donne, diverse tra loro, ma ugualmente forti e carismatiche, sono state le protagoniste assolute della quarta convention delle imprese, promossa ieri a Chieti da Confindustria Abruzzo. Si tratta del segretario generale di CGL Susanna Camusso e del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che hanno partecipato all'incontro in una gremitissima sala dell'ex foro Boario. Imprese, politica e lavoro, queste le principali tematiche affrontate nelle due tavole rotonde organizzate da Confindustria. Si è parlato del futuro dell'Italia, che secondo il segretario della CGL Susanna Camusso, necessita di una scossa, magari attraverso uno sciopero generale. Noi sono, è lungo tempo che abbiamo aperto una campagna che è fatta dalle marce per il lavoro, dalle iniziative che facciamo in tutte le regioni, perché crediamo che il punto da cui ripartire per costruire la crescita di questo paese è quello del lavoro. E vogliamo, l'abbiamo deciso nel direttivo di ieri, proseguire la mobilitazione, e anche fare lo sciopero generale, perché la preoccupazione per il nostro paese è quello che ha bisogno di una scossa, di cambiare il passo. E secondo me pare che ci siano troppi sordi a questa necessità, ma che diamo un segnale in equivoco. Di parere contrario, invece, la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Il confronto si è poi spostato sull'Abruzzo. La presidente Marcegaglia ha commentato positivamente l'avvertenza Abruzzo, promossa da sindacati e imprenditori abruzzesi, da sempre appoggiata dalla numero uno di Confindustria. Credo che, come giustamente dice il presidente regionale, non c'è da lavorare qui, ma insomma c'è da portare questa avvertenza Abruzzo anche sui tavoli nazionali, perché molto si può fare qui a livello locale, ma alcune scelte vanno fatte anche dal governo nazionale. Confindustria è vicino agli imprenditori, alle persone dell'Abruzzo, c'è una situazione difficile qui, e siamo proprio qui oggi per dire, lavoriamo tutti insieme e cerchiamo davvero di sbloccare queste situazioni che sono purtroppo bloccate da troppo tempo. Ancora a lavoro, la Seville di Atessa, la FIOM sciopera contro il lavoro. È quanto dichiara in una nota il segretario provinciale di Chieti della Wilm, Nicola Manzi, a proposito del nuovo sciopero convocato da FIOM per l'intera giornata lavorativa straordinaria di domani. Negli ultimi dieci anni, afferma Wilm, FIOM ha scioperato contro tutto e contro tutti, ed oggi sciopera anche contro l'unico segno di ripresa produttiva, quella della Seville, quindi contro il lavoro. La Seville, per far fronte all'aumento di produzione dei furbaconi previsto nel 2011, ha attivato 14 sabati e 7 domeniche di lavoro straordinari, assumendo contestualmente 150 operai a tempo determinato per 3 mesi e 150 operai trasfertisti dalla ex Bertone di Torino. Ancora pagina sindacale, due ore di sciopero alla fine di ogni turno, sono state proclamate dallo Sly Cobas alla Denso di San Salvo per lunedì prossimo, 28 febbraio, motivo dell'azione di protesta, la penale che sarà costretto a pagare un operaio che lavorando sul macchinario di cui era responsabile avrebbe prodotto dei pezzi risultati non idonei. Dal canto suo, la Denso afferma di aver applicato la norma di contratto di lavoro dei metalmeccanici, in cui è previsto che se per colpa o dolo un dipendente causa un danno nella produzione, è tenuto al risarcimento. La politica regionale, Franco Caramanico, consigliere regionale, lascia il Partito Democratico e dice non condivido gli indirizzi. Il consigliere regionale, Franco Caramanico, ha detto addio al Partito Democratico per entrare a far parte della squadra del Partito di Nichivendola, Sinistra Ecologia e Libertà, ad ufficializzare il passaggio e a spiegare le motivazioni della scelta politica è stato lo stesso Caramanico questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Io penso che appena dopo il concreto con le elezioni di Bersani a livello nazionale io avevo così, ho avuto la sensazione che questo PD cominciasse ad avere una sua fisionomia ben precisa, che è una fisionomia che guardi a sinistra e che non guardi al centro. Purtroppo le ultime vicende più pre-elettorali in vista dell'elezione hanno dimostrato invece il contrario, questa attenzione particolare verso il centro, verso un eventuale leadership dell'Udc, di Fli a livello regionale, praticamente mi hanno messo in forte difficoltà perché quegli elettori che mi hanno votato a cui penso di fare riferimento sono ancora elettori di centro-sinistra e che pensano sia giusto portare avanti un discorso di centro-sinistra anche a livello regionale. Il consigliere Caramanico è poi intervenuto in merito all'invito da parte di Silvio Paolucci di abbandonare l'emiciclo. Mi è sembrata un po' una caduta di stile da parte di Silvio Paolucci, io mi sarei aspettato più delle risposte rispetto ai miei mal di pange, alle mie rivendicazioni, alle mie considerazioni politiche che li ho preannunciate in queste ultime settimane. E di questo mi dispiace, cercare invece di presentare la mia decisione come un interesse personale o altro, francamente qualcosa che mi dispiace, anche perché chi conosce la mia storia sa benissimo che io ho dato l'appoggio al PD anche da non iscritto al PD nel 2008, che ho aderito al PD dopo che il PD mi ha tolto anche l'aggiunta del Turco, quindi ci sono tutte le testimonianze che dimostrano la mia buona fede. Mi sembra di aver già dimostrato qual è il mio pensiero e quindi rispingo al mittente ogni considerazione di questo genere. Dopo il vertice romano del PD si riapre il dialogo tra il sindaco Luciano Lapena e il presidente del consiglio comunale Peppino Forte, con il primo cittadino rientrato a Palazzo di Città a pieni poteri dopo il ritiro delle dimissioni. Una pace o forse una semplice tregua, anche alla luce, come sottolinea lo stesso La Pena, del candidato proposto al centro-destra dal PDL, l'ex magistrato Mario Della Porta. Anche alla luce di una prossima ufficializzazione di una candidatura del Polo delle Libertà è importante che si arrivi ad una unità all'interno del Partito Democratico. Ho tenuto a ribadire al tavolo romano che se c'è una convergenza della coalizione da parte del partito, quanto meno una buona convergenza intorno al nome di Giuseppe Forte, io sono immediatamente pronto a farmi da parte. Lo dico nella certezza dell'importanza di questo gesto per arrivare a quella unità che farà rivincere il centro-sinistra vasto. Conferme di tregua anche da parte di Forte, che si dice convinto che il Partito Democratico saprà fare la scelta più opportuna nell'indicazione del candidato sindaco e poi assicura a Roma dei vertici nazionali del PD nessun mercato di poltrone. Non ne rientra nella logica né di Luciano La Penna quella di andare a parlare davanti ai vertici nazionali del partito per cercare di ottenere la cosiddetta poltrona. Lo escludo categoricamente. Io ho fatto politica negli ultimi sei anni soltanto nell'esclusivo interesse della nostra collettività. Non ho chiesto poltrone ben remunerate, sono andato ad occupare soltanto quei posti che gli elettori hanno voluto io andassi ad occupare. Non a caso sono stato eletto consigliere comunale di Vasto e quindi presidente del Consiglio, sono stato eletto consigliere provinciale di Chieti, sempre con il voto dei cittadini, e non sono stato eletto consigliere regionale per soli 33 voti. Quindi escludo categoricamente che vi possa essere anche un pensiero remoto da parte mia o di La Penna di andarsi a spartire la torta dinanzi ai vertici nazionali. Incidenti stradali. Un uomo di 77 anni è morto a seguito di un incidente a Città Sant'Angelo. L'uomo era alla guida di un'ape che si è scontrata con una automobile. A Pescara la situazione organizzativa e del funzionamento del Tribunale finisce in Parlamento. Il deputato Lanfranco Tenaglia presenta una interrogazione al Ministro della Giustizia. La mancanza di magistrati e personale rischia di mandare in tilt il Tribunale di Pescara. L'allarme è stato lanciato dall'Avvocatura pescarese nel corso dell'Assemblea del 24 febbraio scorso. Gli avvocati sollecitano l'arrivo di nuovi magistrati in sostituzione di quelli trasferiti, auspicando l'utilizzazione dei giudici ordinari solo per lo svolgimento delle udienze interlocutorie e distruttorie, con esclusione dei poteri in ordine all'ammissione dei mezzi di prova e di ogni altro provvedimento decisorio. Nel corso dell'Assemblea gli avvocati hanno anche chiesto il trasferimento dei ruoli civili dalle sezioni distaccate di Penne e San Valentino alla sede centrale, assegnandoli agli stessi magistrati attualmente in servizio presso le stesse sezioni, e di rivocare l'applicazione di magistrati dal Tribunale di Pescara alla Corte d'Appello dell'Aquila. L'allarme è stato raccolto dal deputato del PD Lanfranco Tenaglia, che ha presentato un'interrogazione urgente al Ministro di Giustizia Angelino Alfano. L'allarme dell'avvocatura pescarese va raccolto immediatamente dalle istituzioni e ha dichiarato a partire dal Ministro e dal Consiglio Superiore della Magistratura. La situazione organizzativa del funzionamento del Tribunale di Pescara è drammatica, si legge nell'interrogazione. L'avvocatura di Pescara attraverso il Consiglio dell'Ordine negli ultimi giorni ha lanciato un grido di allarme per le lentezze croniche che stanno soffocando i processi. In particolare, il Presidente del Consiglio dell'Ordine ha denunciato la situazione del settore civile dove si rischia il congelamento di fatto di un elevato numero di procedimenti, ovvero la paralisi delle attività del settore, con gravissime ripercussioni sul piano sociale ed economico a danno dell'intera collettività. Anche il settore penale versa nella stessa situazione a causa di carichi di lavoro aumentati a dismisura, con il risultato di centinaia di inchieste bloccate e processi che non si celebrano in tempi ragionevoli. Occorre raccogliere il grido di allarme della classe forense e il suo contributo propositivo alla risoluzione del problema, ha concluso Tenaglia. La giustizia a Pescara rischia la paralisi completa in assenza di provvedimenti anche straordinari di copertura degli operati organici e di applicazione di magistrati e personale dagli altri uffici giudiziari abruzzesi. A Lanciano Fiera è inaugurata oggi tra le polemiche la diciassettesima edizione di Ruote e Motori Show, criticata dai vertici dell'ente e l'assenza del sindaco Filippo Paolini. È stata inaugurata questa mattina a Lanciano la diciassettesima edizione di Ruote e Motori Show. La rassegna andrà avanti da oggi fino a domenica prossima nei padiglioni di Lanciano Fiera dove saranno esposte le ultime novità dei maggiori marchi motoristici delle due e delle quattro ruote. La forte specializzazione della rassegna, come affermato dal presidente dell'ente Francesco Ciarelli, rappresenta un momento importante per l'economia abruzzese e del comparto dell'automotive. Grande attesa per l'esibizione di piloti di kart, rally, super motarde nel piazzale di Lanciano Fiera che per l'occasione è stato trasformato in una vera e propria pista. Il direttore di Lanciano Fiera Ciro Pasquini ha annunciato la partecipazione alla rassegna dei calciatori della Virtus Lanciano e del Delfino Pescara. All'inaugurazione era assente il sindaco di Lanciano, mentre erano presenti tra gli altri il presidente della provincia di Chieti Enrico Di Giuseppe Antonio, il presidente della Camera di Commercio Silvio Di Lorenzo, l'assessore alla cultura Luigi De Fanis e il presidente della commissione bilancio della regione Abruzzo, Emilio Nasuti. Francesco Ciarelli, abbiamo visto però il sindaco Filippo Paolini, come mai? Ma questo dispiace e mi dicono, io non sono stato informato, mi dispiace perché è il sindaco della nostra città, che è socio anche dell'ente Fiera. So che in contemporanea c'è un'altra manifestazione, conferenza stampa, però è strano che in coincidenza di questa manifestazione poteva anche spostare a domani, a domenica, a lunedì, però oltre a questo devo notare che non ci sono i consiglieri comunali, poteva benissimo far venire il vice sindaco per un saluto, questo non c'è stato e mi dispiace, è una caduta di stile, ecco, finiamola qua. Donato Di Fonso, ruota e motori, appuntamento importante, come mai qui? Beh, come semplice cittadino, la fiera è del mio cuore, è veramente un appuntamento prestigioso, hanno lavorato benissimo, un plauso, un grande plauso a tutto il consiglio d'amministrazione, al direttore Ciro, beh, siamo qui, saremo sempre qui. L'ente Fiera è un pezzo importante, è una parte importante di Lanciano e una parte importante di me. Quindi solo per amore e senza nessun pizzico di polemiche? Assolutamente no, basta con le polemiche e rilanciamo e stiamo stretti, stiamo vicini a questo ente. 41.000 bambini delle scuole elementari abruzzesi sono stati coinvolti nella campagna Frutta nelle scuole, programma comunitario coordinato dal Ministero delle Politiche e Agricole. La Regione Abruzzo partecipa con l'assessorato all'agricoltura. La scuola primaria via Arnienza dell'Istituto Secondo Circolo Didattico di Chieti è stata fulcro della seconda edizione di Frutta nelle scuole, programma europeo affidato al Ministero dell'Agricoltura che si è avvalso della collaborazione delle regioni e del raggruppamento di imprese che si sono occupate della distribuzione della frutta nelle scuole. Il presidente di Orogel Fresco, l'azienda che è capofila di questo raggruppamento, Giuseppe Maldini, ha partecipato alla bella giornata organizzata nella scuola di via Arnienza insieme al sindaco della città Umberto Di Primio e dall'assessore regionale per le politiche agricole Mauro Febbo che in questa dichiarazione evidenzia gli aspetti più importanti del progetto. Io credo che il primo dato che dobbiamo però sottolineare è l'importanza dal punto di vista della prevenzione l'insegnamento perché poi non è solo la giornata o le giornate che la frutta arriva nelle scuole è tutto ciò che le maestre, devo ringraziare per la collaborazione che stanno dando, collaborazione totale e tutto lo studio che stanno facendo, come si vede in questa stanza, ci sono i disegni, si spiega che cos'è la verdura, che cos'è gli ortaggi, che cos'è la frutta, quali sono le proteine, le calorie, quindi voglio dire che credo che il messaggio sia fondamentale. Certo, per l'Abruzzo è ancora più importante, visto che considerate che l'agricoltura rappresenta un segmento importante del prodotto di calo interno lordo, 60.000 aziende agricole, quindi credo che sia veramente un qualcosa che può dare sostegno alla nostra agricoltura. La professoressa Torralice De Nobili è la dirigente scolastica qui a Chiedi che ci ha accolti, la ringraziamo. Com'è stato questo lavoro? Facile, impegnativo? Il progetto Frutta nelle scuole è iniziato l'anno scorso in via sperimentale e naturalmente la nostra scuola ha aderito immediatamente perché da moltissimi anni lavoriamo su questo tema dell'alimentazione, corretta alimentazione, correlazioni con la salute. Con le famiglie è importante sapere come reagiscono le famiglie. Certo, questo è un tema fondamentale perché tutto il discorso passa verso le famiglie, quindi noi, ripeto, sin dal passato abbiamo avviato un discorso che abbiamo previsto corrisi per le famiglie e tutto avviene in sinergia. La pagina dello sport atletica torna a Lanciano, il Cross del Sud, appuntamento con il trentennale nell'ippodromo comunale il prossimo 5 marzo. Si correrà anche la trentesima Coppa Speranze Gruppo Fiat. La città di Lanciano è pronta ancora una volta ad ospitare una nuova edizione del Cross del Sud, classica del mezzofondo italiano, che ormai vanta un legame indissolubile con il territorio abruzzese. Il prossimo 5 di marzo il Cross sarà ancora orfano della prova femminile, tuttavia il parterre della prova maschile sarà quello delle grandi occasioni. Saranno sulla linea di partenza tutti i migliori atleti italiani della specialità, tra i quali Slimani Cadur, campione italiano in carica, Gabriele Denard, Yuri Floriani, Patrick Nasti e ancora Gianmarco Buttazzo, Marco De Gasperi e Gilio Iannone. Sarà l'ultimo Cross in calendario prima dei mondiali di specialità in programma in Spagna il prossimo 20 di marzo, quindi Cross decisivo per la conquista della maglia azzurra. Come negli ultimi anni, il teatro di gara sarà l'ippodromo di Villa delle Rose. La manifestazione vedrà anche e come tradizione la Coppa Speranze Gruppo Fiat, anch'essa la trentesima edizione, che lo scorso anno ha visto partecipare 1181 alunni di 22 scuole e 43 comuni. Anche quest'anno la tradizione sarà rispettata. Claudio Vapponetti, parlare di Lanciano significa parlare anche del Cross internazionale del Sud, e non solo. Beh certo, il Cross del Sud ormai è una tradizione qui a Lanciano, siamo arrivati alla trentesima edizione, quindi è un numero che parla da sé. E siamo particolarmente soddisfatti di arrivare alla trentesima edizione. Anche quest'anno ci saranno oltre i mille bambini ad animare questa corsa all'ippodromo delle Rose, quindi non possiamo che essere soddisfatti. Tra speranze, quindi più giovani e anche tra campioni. Grazie. 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 Grazie.